Il Chievo 3 a Livorno 0, si commenta già dal risultato la partita? Sì, secondo me abbiamo meritato questa vittoria, l'abbiamo cercato, abbiamo lavorato questa settimana per questo e felice perché ogni tanto vinciamo le partite come l'abbiamo fatta la settimana scorsa, la 92, adesso abbiamo meritato, dal primo minuto all'ultimo, siamo state quasi la squadra più forte e dobbiamo ringraziare il pubblico e il gruppo intero per questa partita piena. Felice anche per il tuo ritorno al gol, suppongo. Sì, sì, era da un po' che non facevo gol e soprattutto che non ero bene così in partita, dal primo minuto all'ultimo mi sono sentito bene in partita, avevo le gambe e come ho detto qualche volta, io ho la fiducia dell'allenatore e questo mi dà tanto, ho anche la fiducia dei miei compagni e questo per me è fondamentale, per quello che ho fatto una partita piena e sono contento di avere aiuto alla squadra per questa volta essere decisivo. Grazie. Grazie.